Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EvryEye.it che vi permette di essere sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. Oggi cominciamo da Xbox One. La software house giapponese 5PB ha infatti annunciato tramite le pagine della famosissima rivista giapponese Famitsu l'arrivo a breve di un'esclusiva. Potrebbe trattarsi del famosissimo Shin Asu Tiki Mira Project, qualcosa di molto chiacchierato nei mesi antecedenti. La mente dietro al progetto potrebbe essere quella di Makoto Asada, ossia il capo di Cave. Naturalmente rimanete con noi per futuri sviluppi su questa situazione. E rimanendo sempre in casa Xbox, Microsoft ha recentemente registrato un trademark per Phantom Dust. Lo ricorderete, era un titolo uscito in esclusiva per la prima Xbox ed era diretto da Yukio Futatsuji, ossia il creatore di Panzer Dragoon. Si era già chiacchierato del possibile ritorno di questo brand su Xbox One e Phil Spencer si era mostrato abbastanza propenso. Che sia proprio questo uno degli annunci che Microsoft ha in serbo per le tre, lo scopriremo tra pochissimo. Agent è senza dubbio uno dei prodotti più misteriosi della scorsa generazione di console. Anunciato nel 2007 come esclusiva PlayStation 3, doveva naturalmente essere sviluppato dai talentuosissimi ragazzi di Rockstar North e ovviamente diretto dai fratelli Hauser. Le sue tracce si sono completamente perse tuttavia ed è soltanto di qualche giorno fa la notizia che Rockstar ha rinnovato il trademark. Questo potrebbe significare che il gioco è ancora in sviluppo. Naturalmente Rockstar non è certo famosa per gradire molto le tre come palcoscenico per i suoi annunci. Quindi se mai dovesse esserci un annuncio relativo a questo titolo potremmo aspettarcelo magari successivamente. Ma rimaniamo comunque a vedere incuriositi da questa situazione. E man mano che ci si avvicina alle tre i rumor e le indiscrezioni aumentano sempre di più in numero e frequenza. Questa volta è l'insider Shinobi 602 ad anticipare il fatto che Electronic Arts durante lo show potrebbe presentare Battlefield Swat, ossia uno spin-off sviluppato però da Visceral Games che dovrebbe essere anche in questo momento al lavoro sul brand Star Wars con un titolo ancora non annunciato. Potrebbe trattarsi di un gioco dai risvolti polizieschi e di più naturalmente non si sa. Attendiamo come sempre le tre per tutte le conferme del caso. Gli sviluppatori Harmonix Music System hanno annunciato il successo della loro campagna Kickstarter per riportare su PS3 e PS4 il famoso read and game Amplitude. Sono riusciti a raccogliere più di 800.000 dollari, la richiesta di base era 775.000, quindi procederanno con i lavori. Purtroppo è fuori discussione la possibilità di vedere il gioco su piattaforme diverse da quelle Sony, principalmente a causa di questioni burocratiche legate proprio all'EP stessa. E passiamo invece ad Ubisoft. Sembra proprio che il supporto che la casa francese ha finora riservato a Nintendo stia per esaurirsi. Tramite un suo portavoce Ubisoft ha infatti annunciato che non porterà alcun titolo Wii U o 3DS alle 3 di quest'anno. Questo significa che non vedremo quindi Comet sulla piattaforma di Nintendo, ossia lo spin-off all-gen di Assassin's Creed che ancora deve essere formalmente annunciato. Fa discutere anche la scomparsa di notizie relative alla versione Wii U di Valiant Hearts The Great War, un titolo digitale molto interessante. Naturalmente vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi su questa situazione. E passiamo adesso alle nostre immancabili top e flop news. E il top di questa settimana non può che andare a Deep Silver. Il publisher ha infatti annunciato Metro Redux, ossia una via di mezzo tra una collection e un remake. Metro 2033 e Metro Last Light arriveranno dunque su PC, Xbox One e PlayStation 4 forti di nuove animazioni, una revisione della fisica e in generale effetti grafici migliorati. Potranno essere acquistati singolarmente al prezzo di 19,99€ l'uno oppure insieme in pacchetto a 39,99€. Non vediamo l'ora di mettere le mani su questa ri-edizione e naturalmente vi terremo informati sulla qualità del lavoro finale. E il flop di questa settimana va invece a Disney Interactive. La casa ha infatti annunciato la cancellazione di Star Wars Attack Squadrons. Lo ricorderete era stato annunciato lo scorso dicembre e si trattava di un free-to-play tutto dedicato ai combattimenti spaziali. La cancellazione di questo progetto peraltro ci ricorda anche che in questo momento il brand di Star Wars è fortemente in mano ad Electronic Arts che ha DICE al lavoro su un nuovo Battlefront e Visceral Games al lavoro su quello che si preannuncia probabilmente un action in terza persona ma che ancora non è stato annunciato. Per l'edizione di oggi era tutto, noi come sempre vi diamo appuntamento al prossimo giovedì. Ciao! 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 Ciao!